Allora, no, cosa volevo dirvi? Ah, visto che mi avete chiesto di questo tatuaggio, io non vi ho mai raccontato la storia dietro a questo tatuaggio, ve lo racconto molto velocemente Allora, questo tatuaggio qua, io lo dico anche per tutti quelli che magari vogliono fare un tatuaggio in futuro Ehm... Non fatelo, no, fatelo Grazie MadMark, mi sta per fare avere un attacco di panico, ma... Bello, mi ha un po' spaventato, ma bello No, vi dico una roba di questo tatuaggio qua Ehm... Allora, questo tatuaggio qua io l'ho fatto quando ho avuto 18 anni Ho fatto 18 anni, mi sono fatto lo stesso giorno, mi sono fatto l'orecchino e mi sono fatto questo tatuaggio Voi dite, qual è la storia di questo tatuaggio? Nessuna, cazzo, non c'è una storia Ehm... E mi ricordo che io sono abbastanza sensibile al dolore Solitamente E infatti guardo al tatuatore e gli dico Ma scusa, brother, mi fa male il tatuaggio al polso? E lui, vabbè, ovviamente, cazzo, mi ha risposto con una faccia completamente tatuata Non aveva pelle, cioè aveva solo tatuaggi, quindi Insomma, non era... non era una grande situazione Cioè, era un po' come chiedere, non so, a un cane se gli piace andare a quattro zampe Cioè, lui mi dice, cazzo, sono abbastanza abituato Ehm... Non lo sto paragonando a un cane, ovviamente, il tatuatore Oddio No, non è vero, non è vero Sono detto un vero brother, un vero brother Vabbè, anche gli animali sono dei brother Ehm... Vi stavo dicendo che Ehm... Allora, mi inizia a fare il tatuaggio e dico Vabbè, dai, non sarà così doloroso, no? Voglio che... voglio che mettiate un emote Che secondo voi è stata la mia... Quello che ho provato nel momento in cui ha toccato con l'ago il mio polso La fate voi Dovete però mettervi d'accordo con un emote che dovete spammare tutti Boh, vi vedete se riuscite a trovare un emote Tutti dovete spammare quella Mettetevi d'accordo voi Cazzo, è proprio quella con le lacrime È proprio una bella lacrimata Sì, devo dire che mi sono veramente fatto una scorpacciata di lacrime No, però, cioè, avete presente quelle lacrime? Cioè, non è che... Così Però, vi ricordo che, cioè, mi scendevano le lacrimucce Perché, vi giuro, veramente mi sembrava... Mi stessero mettendo, non so, un'ascia, cazzo, nel polso Veramente... no, vi giuro, ragazzi Cioè, io l'ho veramente patito Veramente doloroso E tra l'altro mi ricordo che... Cioè, perché poi doveva proprio fare le righe Cioè, capito? Non è un disegno È proprio... Minchia, faceva... Poi, ecco, il dolore più assoluto è stato questo Non lo ricordo ancora Questo qua in centro dove c'è, cazzo, la venuzza Mi ricordo che mi ha fatto così Io ho detto, guarda, il tasto play puoi anche non metterlo Perché, veramente, non ce la faccio più Fai, ma devo finirlo No, guarda, inventiamo un nuovo tasto, per favore Mettiamo una riga in mezzo, basta Per me va bene così Ehm... Tra l'altro ho durato dieci minuti Ma, davvero, io non sarei durato tipo mezz'ora E quelli che fanno i tatuaggi di due ore, cioè A parte che, vabbè, sul polso, ragazzi, è super sensibile Quindi, immagino, non sia lo stesso dolore Che magari farlo sul braccio O su, che cazzo, ne so, la spalla No, il tipo, il tipo mi fa Ehm... Mi fa che quelli che fanno più male i tatuaggi Sono sul polso E su qua Infatti io mi immagino qua sul pomodadamo Farsi un tatuaggio Cioè, vi giuro, mi viene la pelle docca a pensarci Quindi... Quindi non lo so No, ma è vecchio, è vecchio Io ce l'ho da due anni Un anno... Sì, ho vent'anni Tra poco Quindi ce l'ho da un anno e mezzo, praticamente L'ho fatto ad aprile del duemila e... Ehm... Diciannove? Diciannove? Quando è che ho fatto diciott'anni? Diciannove? Scusate Diciannove? O sono duemila e uno? Sì Di base è un sì Di base è un sì Allora, ragazzi Oggi facciamo delle cose abbastanza... Io non ho uno sul polso e non ho sentito niente Allora era un figlio di puttana quello che me l'ha fatto Molto probabilmente No, perché... Cioè, si vedeva che lo faceva con un certo gusto